Questa prima sera e quest'anno il premio Aranciadoro, ma prima parliamo un po' con lui, so che lo stavate aspettando, signori è qui con noi, Valerio Lundini! E questa l'ha fatta, ora ne parliamo, è la sigla del programma, ma questa grafica l'ha fatta un nostro amico, quindi è una cosa che non c'entra col programma, è un hobby, l'avete trovata, questo è Carmelo, vabbè sono fatti miei, per voi era una splendida animazione, salve a tutti, bentrovati, ciao, noi ci siamo già salutati prima, questo è un saluto che faccio più, per far vedere che ci stiamo salutando, però già ci siamo ampiamente parlati. Però era brutto entrare, tipo così, non dirti niente. Come stai? Molto bene, la verità, bene ma ho avuto un calo di zuccheri prima di venire qua, perché io ho i cali glicemici e quindi ho dovuto prendere dei bagliocchi e dei succhi di frutta, quindi il calo di zuccheri non c'è più, adesso ho la pesantezza del... E' un problema che chi è diabetico qua immagino... Ci sono diabeti? Cioè sì, immagino ce ne siano e può capirmi insomma, oppure no, perché magari lo gestisce meglio di me insomma, dei diabetici che sanno gestire i cali di zucchero. Tu hai malattie? Per iniziare la... Eh lo so, no, grazie per l'interesse, però ne avevamo già parlato. Sì, sì, ma hai detto quelle classi. Tre gliceridi. Tre gliceridi, vabbè, dai, potranno essere quattro. Qualche consiglio? Eh sì, te stesso. Sì, te stesso. Ah, foto col tamburello, vedi? Vedi, queste sono quelle foto che la fotografa ti fa le foto, io non so mai che fare durante le foto. Allora lei ha trovato un tamburello e ha detto, prova a fare così col tamburello. E io ho detto, ma che ce faccio? Eh, magari viene carina. Ha detto, vabbè, tanto non la useremo mai. E poi, eccolo là, col tamburello, convintissimo di questa cosa, che poi non si suona così. Vedi, abbiamo risolto già una domanda, puoi non farla. La salta. La salta, era che, ecco di che parla questa foto. Senti, e come, diciamo, il tuo rapporto con la rete? Con la rete, ce n'è una qua, due. Però tu intendi internet? No, io sono nato nel 1986, quindi mi sono vissuto gran parte dell'infanzia... Sono le zanzale, dicono. Sì, sì, ce ne sono. E beh, c'è il mare vicino. Gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza senza internet, quindi l'ho visto nascere, no? Perché è nato nel 55 in America, però era un internet proprio... Primordiale. Primordiale. E l'internet di adesso l'ho visto nascere e crescere, quindi sono fortunato di aver vissuto un periodo senza e un periodo con, così da poter vedere le comodità senza darle per scontate. Cioè, vedere che, ah, i film gratis, le canzoni senza comprare il cd. Però mi manca quel periodo di mistero che c'era prima di internet. Quindi rapporto positivo, non vorrei accusarne mai, ma prima o poi è diventato parte della... Cioè, tutto è tramite internet, ormai. E il sesso lo fai su un... Il... Sesso ti conviene. Sesso? Ma su internet? No, cioè, grazie a internet. Ah, grazie a internet... No, no. Non so che intendi, ma penso di no. Sarebbe scomodo, comunque. O pericoloso, a seconda del voltaggio. Sesso intendi... Cioè, conoscere fidanzate su internet. Ma anche stimolarsi o avere... Ahile, guardare le... Avere nuove idee. Allora, guarda, che devo dire? No, davanti a tutte le situazioni devo parlare di... Beh, diciamo che la fantasia è sempre meglio, ma... No, a volte quando ti mancano le idee, ne trovi tante. E online, c'è sempre il rischio di... Qual è l'ultima, diciamo, cosa che hai scoperto? Dici, ah, posso fare anche questo. Ma stiamo parlando sempre di erotismo. Ma io non... Non pratico, se ti devo dirti la verità. E ho scoperto che si può andare con più persone. Però sempre nei video si vede questa roba. Della realtà... Ecco, sì. Internet dà una visione deformante di alcuni aspetti di questo tema di cui hai parlato. Il sesso. Non parlo facilmente di sesso in pubblico, come vedete. Sto cercando di far dire a lui le cose... Perché mi chiedi... Cioè, mi ha detto... No, lui mi ha detto... Che domande vuoi che io ti faccia? Che domande vuoi che non ti faccia? Vuoi che ti faccia leggere le prime domande? Ti ho detto, no, Stefano, fai te. E poi è diventata la prima cosa. Oh, a te le fai pippe. Cioè, la prima domanda era... Se mi faccio le seghe. E vedo anche... Allora... Diciamo, cerco di... Cerco di limitare. Non voglio adesso creare problemi. Sì, me le faccio, dai. Un po' mi capita. La noia. La noia, a volte... Ma avevi detto che non avevi problemi. No, no, no. Infatti no. E devo rispondere delle mie azioni. Io ti ho detto, chiedi quello che vuoi. Me le fa... Sì. Spesso. Non più. Ma questo te lo stai chiedendo da solo? Volentieri. Diciamo che nessuno mi ha mai costretto. E se così fosse stato, potrei fare una bella denuncia. Tu? Diciamo... Trovi molte più possibilità. Prossima domanda. E fai screenshot? No. Per avere un ricordo? Ah, un ricordo. È come fare una foto? No, no. Non faccio lo screenshot perché una volta che devi fare quella cosa la fai dal computer. No, col telefonino è veramente da... Da tortabile. Con tutto rispetto per chi invece adopera il cellulare, però, insomma, è anche scomodo. Quindi lo screenshot non lo fai. Senti, io ho chiesto alla rete, appunto, che ti avrei intervistato e ho chiesto, che volevi chiedere a Valerio Lundini? E ho scoperto che hai anche molti amici. Beh, sì, 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 amici di rete. Ah, amici di rete. I fan. Ah, sì, sì, no, amici, amici. Cioè, persone non... Qualcuno ti ha mai seguito fin sotto casa? Qualcuno mi ha mai seguito fin sotto casa? No, seguito no, però mi hanno visto entrare a casa e io quando vedo la faccia tipica del del seguace mio, che spesso sono persone tipo me, cioè hanno gli occhiali, un po' di barbetta, non sono mai proprio dei... sono sempre un po' pubblico del Luca Comics, quindi un pochino giovani, non particolarmente, li rispetto perché io sono come loro. Li vedo, vedo che capiscono che io sto là, allora non voglio far sapere che abito là, allora quando citofono e dico mi apre sono Lundini, come si diceva magari c'ha un appuntamento di lavoro, non è che abita là, però no, seguito fino a sotto casa? No, ma non mi seguono sotto casa, lo dico e tranquillizzo la maggior parte di voi che non hanno idea di chi io sia, nessuno mi segue sotto casa. Non ci sarebbe motivo, insomma. No, no, un applauso addirittura. Quando vinci l'Arancia d'Oro, però qualcosa dici? Quel po' d'applauso c'è, perché è un lascia passare, come l'Oscar. E ancora non l'ho presa, spero che sia come me la immagino. Come te la immagini? Ecco, gigante e effettivamente d'oro. Perché ho notato in questa mia breve esperienza che tutti questi premi sono d'oro, e poi te li danno e non sono d'oro, sono color oro. Hai avuto già tante delusioni, quindi? Eh, guarda, la più grande, mi spiace dirlo perché sono stati gentilissimi, eh? No, 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 non è d'oro, vero? È il sindaco che sta portando le mani avanti. Però queste sono promesse che l'elettorato si ricorda. Diceva, quel sindaco là mi lantava premi d'oro e poi... Però va bene, anche se è anche placata di spero vero oro. Neanche. No, no, no. Altra delusione. No, una è stata... Va bene, non lo dico. Cosa? No, c'è una che si chiama... Non dico la regione che me l'ha data e non dico il premio, però facciamo finta che si chiama il cavalluccio d'oro, così... Quindi bordo. È un altro animale marino. Il cavalluccio d'oro, io ho detto vabbè, già sapevo perché non sono andato ieri, che non sarebbe stato effettivamente d'oro. Certo. Però sarà dorato, sarà di metallo. La cava. Era... Sembrava le bottine dello shampoo quelle quei pupazzi. Sai che ne so, lo shampoo con Spider-Man. Io infatti l'ho messo vicino allo shampoo del Bart Simpson, vuoto, e non è che uno entra nel bagno mio e fa, ma perché hai messo un premio a fianco a uno shampoo? Piede due shampoo e uno è un premio, il cavalluccio d'oro di Siracusa. Ma dentro che c'è? È un shampoo. Siracusa. Sì, sì, sì. Ti è scappato. Mi è scappato. Vabbè, comunque l'arancia d'oro andrà in cucina. La motivazione. La motivazione del premio era che stavo lì. Stavo lì che dovevo fare uno spettacolo, non era Siracusa, stavo lì perché dovevo fare lo spettacolo mio in là. Allora secondo me hanno detto, ah viene giovedì, viene Lundini, da morire a lui, perché era periodo Covid, quindi magari lo dovevano dare a qualcun altro. Infatti la dice lunga anche il fatto che il nome è prima grattato e poi sotto l'è scritto Valerio Lundini. Infatti esce un po' di shampoo. E che dice la rete? La rete, la rete. Ti chiedono quali sono i tuoi comici di ispirazione? Ah, ma di ispirazione in realtà ho sempre visto le cose comiche senza mai dire mi voglio ispirare. Io le ho sempre viste come fruitore, quindi mi piacciono anche tante cose che poi sono diverse da quelle che scrivo. Quindi diciamo che una delle prime persone con cui ho lavorato come collaboratore in radio è stato Nino Frassica e poi con Lillo e Greg che li conoscevo già da anni e poi ci lavoro tuttora in radio. Quindi dire Nino Frassica e Lillo e Greg mi sembra un po' una viaggeria, però effettivamente pure se non ci avessi mai lucrato l'avrei comunque detto. Quindi tra gli italiani metto loro, mi piace tantissimo Max Tortora che si vede sempre meno però sta facendo molti ruoli drammatici al cinema quindi sono contento che lavori anche in altri contesti. Renato Pozzetto, mi piace, poi sembra un po' banale dire Totò perché diceva vabbè come diceva che musica ti piace? I Beatles, però Totò mi piace, però diciamo le cose che mi hanno, dimmi, mo dico il nome tuo, Induccio, Induccio, l'avrei detto, l'avrei detto, c'è ancora, eccolo sì sì, no no è vero, è vero, io conosco a memoria tutta la canzone, te lo giuro, te la canterai se non sembra sia un'altra viaggeria. Quindi Induccio poi, Daniele Cattano. Mi stai suggerendo però. Adel, ecco la sincera verità è che Adel me l'hai suggerito, Induccio e Gattano erano veri. E no, poi di quelli stranieri io da bambino vi di La pallottola spuntata di con Leslie Nielsen scritto da Jim Abrams e David Zucker e lì dissi ammazza ma esistono cose così divertenti e quel mondo lì mi è sempre piaciuto tanto, cioè quella comicità che poi viene chiamata demenziale, però a me dispiace che la si chiami demenziale. Come volessi che fosse chiamata? Intelligente, perché era molto più intelligente quella roba di tante altre cose che vedevo e dicevo perché questo lo chiamano demenziale che comunque dietro c'è una scrittura, c'è un'intelligenza, c'è una recitazione di un certo tipo, però la chiami demenziale sembra che sono ritrattati. E quindi quella roba là di Leslie Nielsen e di Mel Brooks per me è stata tipo un'epifania quando ero piccolo, ho detto ah cavolo si può far così ridere pur essendo serissimi e impassibili e non passare mai per matti rispetto agli altri perché vedevi sempre nei film c'era quello buffo, era anche quello un po' scemo. Invece lì il tenente Frank Drabin interpretato da Leslie Nielsen era comunque rispettato, andava con delle donne molto più belle di lui, era ammirato tra i colleghi, eppure era un coglione, ma nessuno se ne accorgeva e quella cosa per me era meravigliosa, scusate la voglia che mi ha fatto. Mi tratta che mi metto un ucchiali con l'applauso, perché è un po' una... Dovrei anche bere, quando si applaude spesso... Vuoi qualcosa da bere? Dopo quando si applaudono di nuovo faccio così. C'è uno che... Uno mi chiede, ci fai o ci sei? Ah, ci fai o ci sei? No, quella è la risposta... Ci fai significa... Ah, ci sei? Ci sei vuol dire che sei... No, no, ci faccio, ma come se mi permette? Ci faccio come? Chi è questo? Il nome è cognome. Dopo te lo giro, sì. Dopo me lo giri. Un altro chiede, a quale lettera del tuo nome sei più affezionato? La V, perché è quella prima che scrivo quando firmo, no? E quindi faccio anche un po' le condizioni, sai, le... Come si chiamano, le... Di rigore? Sì. Fai sulla A, la E, la R, così vado un po', così. E quale quella meno? La R perché non la so pronunciare. C'è un problema che purtroppo... Uno dice, no, ma è bella la rimocia. Sì, ma se non ce l'avessi potrei comunque far finta di non averla. Cioè, come la zeppola, no? Cioè, non è che dico, beato te che c'hai la zeppola, che se faccio così la posso avere pure io. E quindi... Cioè, io vorrei guarirne per poi farla. Così, visto che mi piace, la faccio. Però intanto posso doppiare un film. Posso fare uno scherzo telefonico. Io non ho mai potuto fare scherzi telefonici, nonostante fossi bravo. Perché chi mi conosce dice, ah, Valerio, sei te. Dice, che fai il ponto. Quindi la rimocia un po' la soffro. Però ormai non ce l'abbiamo. Ha mai pensato di fare un duetto con Iva Zanicchi? O se dopo il duetto con Topo Gigio, consideri chiusa la tua carriera da cantante? No, allora, il duetto con Topo Gigio è stata una bella soddisfazione. Peraltro è stata una bella soddisfazione anche perché l'altro ieri o ieri sera l'hanno rimandato su TecheTè. Teche, 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 Te. Programma con le teche Rai. E quindi c'erano tutti i grandi della Rai. E poi ci stavo io che duettavo con Topo Gigio. E io ho pensato, ah, questa cosa, so, sono soldi dei SIAE. Perché io mi sono sempre chiesto, i soldi della SIAE come si fanno? Perché dice, no, perché tu fai un programma, poi quando vai in onda un'altra volta ti danno i soldi. Ma quando è che vai in onda un'altra volta un programma? Una volta che hai fatto, è fatto. Poi ho pensato, ah, Teche, Teche, Te. E quindi ho detto, mo' devo scrivere un programma bello, infatti è bello per questo. Perché così uno da 800 anni, fa te lo ricordi, Londini, adesso è morto per il diabete, però gli possiamo prendere dei pezzetti e li mandiamo su Teche, Teche, Te ogni tanto. E già è successo. Manco due mesi fa andato in onda, è già storicizzato in vita. Tipo Totò. O Topo Gigio, però. Senti, ma a questo punto una cosa che io si chiamo... I Vazzanicchi non ci ho mai duettato. Spiego a chi non sa chi io sia. Io suono da una quindicina d'anni con una band che si chiamano Vazzanicchi. Quindi quando li presenti, ecco a voi I Vazzanicchi. È un gioco di parole che fa ride la prima volta, poi già la terza volta dici come si scrive, che è, ma mi potete chiamare in un altro modo, eccetera. E la cosa da domandare è ma vi siete mai conosciuti con la cantante Iva Zanicchi? La risposta è no, ma recentemente lei da Serena Bortone ha detto ho saputo che c'è un gruppo che si chiama così. Sveglia, so quindici anni che esiste. Quindi no, ormai no. Applauso. Però non so se avete notato, ma mentre facevi l'indicazione della voce di Iva Zanicchi... Non so che era, sì. Non c'era l'amore... Ah no, quando imito non ce l'ho. Sono tipo Luca Laurenti. Quindi per guarire dalla remoscia devi fare... Basta imitare, sì, devo trovare... No, devi fare Iva Zanicchi. No, poi devo trovare uno che parla uguale a me, ma senza la remoscia, e imitarlo. Può trovare. Eh, lo devo trovare, anzi, se conoscete, possibilmente stesso accento. Carbonara o amatriciana? Eh, lo sai che faccio sempre fatica? Qual è quella rossa amatriciana? Sì. Ma forse è amatriciana, sì. Non ti piace l'uovo? No, no, mi piace pure... Vabbè, visto che era una scelta. Ho scoperto dalla rete che tu, oltre al comico, sei musicista, vabbè, questo ce l'ha detto, e anche disegnatore. Sì, sì. Cioè? Che disegno? Sì, ma che... No, facevo fumetti, adesso non c'ho più tempo, ma non perché adesso lavoro più di prima, è perché avevo proprio... ero diventato molto lento, perché iniziavo, facevo la faccia, facevo il corpo, così, poi quando dovevo disegnare lo sfondo dietro un po' mi annoiavo, quindi sono molto bravo a disegnare a tavola, al telefono, quando faccio gli schizzi, così la gente li vede e fa mazza, ma sei un fenomeno, poi mi dicono, faresti 30 tavole di tex e lì non so più un fenomeno, però sì, sono disegnatore, è una cosa che ancora so fare, ma non faccio professionalmente. Ma è istintivo oppure è una scuola? No, ho sempre disegnato sin da quando ero bambino, poi feci da grande, già stavo all'università, feci la scuola romana dei fumetti, che è una scuola dove si insegna a fare fumetti, dove mi hanno comunque insegnato delle cose che prima non sapevo. Esempio che faccio sempre, l'ombra sotto le scarpe, perché uno quando disegna le scarpe pensa che le scarpe non proiettano un'ombra, in realtà le scarpe proiettano un'ombra sottilissima che se tu la metti sotto, il disegno prende 5 punti in più di qualità. E quindi questa e altre cose, tipo le pieghe dei vestiti, prima andavo un po' così, no? Invece adesso so come si fanno i panneggi, si chiamano, insomma ho imparato delle cose in più. Le ho messe in pratica a tavola quando disegno, al telefono, però non faccio tantissimo. E questo l'ha aiutato alla scelta dei vestiti? Scelta dei vestiti? No, guarda, c'è uno sotto casa mia che vende camice strane, cioè sia camice normale sia camice strane. Ha capito che a me piacciono quelle strane, adesso vedo che mette in vetrina appositamente delle camice più strane e quindi io lo vedo, secondo me l'ha messa come esca. Infatti un po' ci rimango male quando cedo. Questa l'ho comprata perché l'ha messa in vetrina, a fianco al palazzo dove ho citofonato dicendo sono lundini, devo sapere, c'è stato questo signore che vende camice. Perché chi non la vedesse da lontano sono delle tartarughe. Tartarughe, sì. Bella, no? E beh, a me piace. Pensa, comunque, senza far finto tonto, io prima di venire qua, io la dico non te. Ho scelto una camicia, ho detto comunque devo fare un'intervista, devo prendere un premio. Quindi pensa a quelle a cui ho detto no. Ha fatto in questo, volevo sapere, se c'era stata una ricerca. C'era, c'era, c'è stata, c'è stata. Ho boicottato una a quadretti, una a tinta unita perché sennò poi a chi stanno a premiare dei due e ho preso questa qua con le tartarughe. Allora, c'è qualcuno del pubblico che vuole fare una domanda? Lui vuole approfittare. Dove abiti? Dove abito? Al telefono? Lo sai che al telefono non ho quello fisso. Vabbè, ormai. Ho il cellulare, però non lo do perché già ho dato l'indirizzo, insomma, se mi volete trovare, mi mandate una lettera, poi piano piano arriveremo anche alla telefonata. Lei dove? È andata via dopo la domanda. Quello che voleva sapere, lei è venuta a grotta a Manchi. Puglia. Puglia dove? Francavilla-Pontana. Ah. No, conoscevo Puglia, mi mancava la... Francavilla-Pontana. La via, la via. Ah, la via, ok. No, la via è il paese. Sì, sì. No, no, lo sa... Ah, la via vuole sapere... Via? Eh... Piazza San Carlo. Piazza San Carlo. Vabbè. 32.021. 32.021. E' una piazza gigantesca. Cioè, tipo un'isola. Quante persone sono di qua? Beh, tante. Ah, ok. No, perché pensavo, essendo località turistica, le persone magari vengono, anziché... Sì, sì, vengono, ma qui c'è la tradizione, insomma, è un appuntamento importante questo. Certo, certo. Peraltro è il trentaseiesimo anno. 37. Ah, cavolo, mi sono perso uno. E chi l'ha vinto il primo? Eh, chi l'ha vinto il primo? Totò, Totò. Totò, Totò. Che si lamentò che non era d'oro. No, dicono Lello Arena. La prima edizione. Si confondete perché sono di Napoli. Ah, chiuso, abbiamo l'ideatore del premio. La memoria storica, Michele. Lello Arena. Aranciadoro era? Lello Arena. Lello Arena, perfetto. Eh, no, no, grandissimo. E il secondo? Leo Cullotta. Ok. In ordine alfabetico, questi due. Poi dopo... Beh, contanto che io ci chiamo Valerio. Eh, ma ci siamo arrivati alla fine. Sì, cioè, siamo quasi, eh. Ma tutti quelli con la A... Prossimo anno, Gazzurro. Gazzurro, purtroppo. Defunto, Zurli, defunto. Mi sa che questo è l'ultimo anno. Vabbè. Beh, l'Eugullotta, peraltro... Non male. Abitano... L'Eugullotta abitano in zona mia, via Vandosia. E... L'Ellorina no, però... Ah, sti cosi che sembrano insetti e soffiori. Quindi li puoi ammazzare senza polemiche, perché non muorono, sono già morti. Senti, uno mi scrivi, il ruolo di Vieste nella tua poetica? Il ruolo di Vieste nella mia poetica? Fondamentale. Ancora non usato. Però appena iniziò di Vieste, sicuramente sarà per un motivo... Quindi era una provocazione? Sì, sono provocatori. Io purtroppo mi sono costruito un pubblico dei simpaticoni che devono dire queste cazzate di continuo pensando che a me fa piacere. Io vorrei persone serie, come una signora che mi ha chiesto tu abito. E invece questi... Il ruolo di Vieste, che che è? Non è Vieste, non c'è quel ruolo di Vieste. Cancella sto commento. Senti, un'altra cosa... Ma poi c'hanno tutti la stessa calligrafia, sti commenti. Ma questi lo riscritti io. Ah, l'hai riscritti te. Possiamo avere un'acqua? Posso avere due bottigliette d'acqua? Grazie. Guarda che tanto ci sentivano dal microfono. No, però poi sembra che mi sono montato la testa. Ma grazie. E va bene, grazie mille. Allora, e invece la D maiuscola, perché la usi per donne e non per domodossola? Ah, perché ho scritto questa canzone recentemente che parla delle donne, magnificandole, però dicendo delle banalità sentite mille volte. E quindi mi sono divertito perché ho scritto questa melodia che mi sembrava un po' un brano degli anni Ottanti. Grazie, la c'è la data Anducci. Grazie, grazie. La ripoi? Ne tengo due, così una me la prendo. Allora. Alcuni ridono per queste cose triviali. Allora, c'era questa canzone... Ah, mo' posso farlo quando applaudire. E c'era una canzone che si chiama Le donne, che dice tutte le banalità, tipo hanno una marcia in più, siete meglio degli uomini, così. Perché ha detto, è un testo banale di canzone anni Ottanta. E poi a un certo punto dico che le donne meritano la D maiuscola, un'altra cazzata così, non per loro, è per la canzone. E poi ho detto, non me ne voglia Domodossola, perché quando penso alla D, io penso a Domodossola. Perché essendo cresciuto guardando la TV, c'era sempre la D di Domodossola. Anche il famoso gioco Nomi con Gnome città. Nomi con Gnome città, che tutti, se mettevi la stessa città che metteva un altro, facevi meno punti, no? Quindi alla D, che te costa? Mette Dublino, Dubrovnik. Invece no, tutti Domodossola, pensando, gli altri metteranno Dubrovnik, sicuro. Valeria, siamo di Domodossola, è di Dublino. Siamo di Domodossola, come vi trovate con questa D? Bellissimo. Una donna di Domodossola. Pensa, tutti. No, io mi sono sempre immaginato la D di Domodossola tipo un monumento, capito, in piazza. Tipo la torre di Pisa, la D di Domodossola. Bene, bene. Senti, un'ultima domanda sul senso. Sul senso, vai. Cioè, sei sposato, fidanzato? Fidanzato. Lei lo sa? Sì, sì, sì. Non sa di voi. No, anche lei è ironica così, cioè, comunicate in maniera ironica? Ah, beh, sì, ma l'ironia spesso è una scusa per passare il tempo, insomma. Quindi, sì, usiamo l'ironia come tutti. Passate il tempo così? No, no, cioè, parliamo, nel parlare siamo a volte scherzosi, a volte seri, insomma. E i tuoi familiari sono come te, oppure? Ma mia madre dice, eh, tu hai preso da me, perché lei dice di essere simpatica. È simpatica, non è che fa proprio ride. Cioè, mio papà invece non... è una persona seria. Ma per me è bene così, cioè, a me è quella famiglia dei clown dove tutti fanno ride una cosa... Cioè, mio padre è una persona seria. Ma pure mia mamma, no, non c'abbiamo... Io e mio fratello siamo più... più scherzosi. Ma no, ammatti, cioè... Cioè, io conosco tutti... tutti i miei amici sono un po' così. Cioè, ci diverte dire sciocchezze e poi c'è chi ne ha fatto una professione, chi ci ha vinto l'arancia d'oro, chi no. E io poi parlo, ancora non è che... Ancora non l'ho ricevuta, eh. Eh, tra l'altro... Io ancora non l'ho in mano. Adesso io mi manco solo del... con il cavalluccio d'oro che sta a fianco al Baby Johnson. Quindi questo sarebbe il secondo premio? No! Perché abbiamo anche un ottimo TV Talk Award. Quello... Eh... Per... qual'era la motivazione? Rivelazione. Rivelazione dell'anno, sì, 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 sì. E quindi il prossimo anno come farai? No, già è passato. Quest'anno è... Infatti com'è possibile che Nicola Savino quest'anno? Lui già... Ah, penso che è personaggio dell'anno. Personaggio dell'anno. Eravamo in combutta, io... Non in combutta... Vabbè, in finale, scusa. In finale, io, Zorzi... Sì, Tommaso... Tommaso Zorzi e Matilda De Angelis. E... Sì, si è fatto il gel. Ho vinto io. Però... Io non seguivo la cosa. C'è la mia mamma che segue molto TV Talk, mi ha detto, Oh, t'hanno messo da quelli che... Che vincono il TV Talk Award. Ho fatto, ah, vedi. E chi so, gli altri... Io sono andato a vedere chi erano. No, Matilda De Angelis la conoscevo. Poi io ho scritto... A lui non lo conosco. Matilda De Angelis la conoscevo. Gli ho scritto, Senti, ma sai niente nel TV Talk Awards chi lo vince? Dai, in bocca al lupo. Facendo finta. Già sapevo che ho vinto. Però sono contento perché... No, no, vabbè. No, ma sono piccole soddisfazioni. Che ce ne fa Matilda De Angelis con TV Talk Awards? È più giovane, è più bella, lavora all'estero. Almeno il TV Talk Awards... E che cos'era? Quello neanche esiste. Cioè, quella è una cosa. Cioè, mentre l'arancia d'oro, io spero, abbia una sua... Sarai deludito. ...fisicità. No, dai, ma non credo che sia un NFT, cioè sarà una cosa. Invece il TV Talk Awards, loro hanno detto, l'ha vinto l'undin. Non mi è arrivata una lettera. Cioè, se un giorno tra 50 anni, con i nipoti, mi fanno, nonno, ci prevede i premi. Io gli dico, guarda, qua ci dovrebbe essere il TV Talk Awards. Però non me l'hanno... O sgraffigno sotto... A un mercatino. E ci scrive un TV Talk Awards. Però, dai, comunque sono belle soddisfazioni. Quando hai scoperto di essere un comico? Bah, no... L'ho visto un flash. Pensa se... No, non voglio foto. A un certo punto comincio a dire una cosa del genere. No, io sono... Sono 15 anni che suono con questa band, quella di cui ho parlato prima, nella quale, essendo tutti così molto... Siamo un gruppo di amici, noi suonavamo canzoni degli anni 50. Infatti, in dulce, io l'ho conosciuto sul disco vintage, ma non le dimostra, di Renzo Arbore. Peri che pensavi che io stessi a dire cazzate. Ti conosco benissimo. Adel non conoscevo. Però mi dispiace perché sembra che... Beh, un po' brutto. Provederò. No, no, provvederò. Magari manco lui conosce me. No, lui veramente stava qui e era venuto per te. Ma è quello che ho conosciuto prima, sotto? Ah, come no, certo. Non sapevo se si chiamasse così. Grazie, Adel! Non avevo capito, cari te. Non avevo capito, sberdonami. Era un duccio che ho fatto finta. Mi sono inventato del disco di Renzo Arbore, però poi esiste anche il disco, quindi... No, dicevamo, quindi c'è questa band, suonavamo, tra una canzone e l'altra, noi facevamo canzoni degli anni 50, 60, rock and roll, beat anni 60, Chuck Berry, Jerry Lewis, quindi canzoni così, divertenti, ma di altri, di altri tempi, e poi tra una canzone e l'altra facevamo, dicevamo, delle cazzate. Suonavamo in dei posti dove il pubblico era molto distratto, quindi noi potremmo anche sperimentare, dice oggi dico sta cosa, vediamo che succede, quindi non abbiamo mai sentito quell'ansia da prestazione della, oh, vediamo se adesso divertiamo, perché non era la nostra priorità. La nostra priorità era suonare, evitare di sbagliare gli accordi, e quello era il nostro lavoro. Se poi tra una canzone e l'altra il cantante e io, il bassista, dicevamo, presentavamo il brano in modo pazzariel, se questa cosa a gente divertiva, un punto in più, se non divertiva, nessuno diceva, ah, non mi divertono, perché eravamo una band, quindi questa cosa ha fatto sì che non avessi mai ansia di far ride nessuno, tu dici, invece dovresti, però, no, no, cioè non ho mai avuto la cosa dell'hanno riso, non hanno riso, perché nella mia testa io sto ancora facendo altro, cioè io penso, no, beh, io sono musicista, sono fumettista, quindi non... l'ho scoperto, diciamo, quando ho iniziato a scrivere cose che non avessero la cornice intorno, o la scusa del... non so, faccio un fumetto, il fumetto fa ridere, faccio una canzone, la canzone fa ridere, invece faccio tutto, scrivo sketch, scrivo testi che fanno ridere a prescindere, quindi forse è stato lì quando ho iniziato a scrivere racconti e cose prontamente comiche. Ok, sindaco, io dico, penso che è arrivato il momento di ufficializzare questo... facciamo un applauso, Enrico Gallini, Pier Gallini, oddio, Lorenzo, attenzione che l'ultimo gradino ha, c'è una... piacere... dove ci mettiamo? C'è una pistola lì? Sì, era mia, l'avevo portata, in caso non rispondevi. Bene, non sarà una grande delusione, però, eh... No, no, è dove, è dove? È dove? Doro, totalmente, no. Non si chiama, Barbara? Eh, non si chiama, Lorenzo. Bene, direttore, la motivazione... Sì, aspetta che tolgo... Sì, scusa. La motivazione è lunga e articolata, abbiamo cercato di... Riassumerla. Di riassumerla, esatto. Ma anche... Per aver segnato con il proprio linguaggio comico, surreale e geniale, le recenti stagioni televisive, dove la cifra di un apparente nonsense è la chiave più intelligente per smontare con autoironia la comunicazione ufficiale, satura di parole, in cui ogni discorso, anche il più illuminato, diventa subito pretesto spettacolare e chiacchieravacua. Inoltre, per aver fatto irrompere nel paludato mondo televisivo italiano un inedito e originale late night comedy con surreali servizi distanti da buonismi e luoghi comuni attraverso una vocazione artistica avversatile riavvicinando i più giovani alla comicità in tv. Caspita, grazie. Grazie, vorrei dire che in due ci sono voluti per leggere le motivazioni, eh? Ciao a te, grazie. Grazie mille, grazie mille. Allora, andiamo alla consegna, l'arancia è d'oro. Sì, sì, ma va benissimo anche se non è d'oro. Ma questa può saranno, ma... Non c'ho paura a farla cadere. Grazie mille, ciao. Aspetta, ti reggo... Lo shampoo? Il cucina. Ecco, il cucina ci sta avendo. Bene, andiamo avanti per le foto, perché questo è un momento... È tipo Sanremo, ecco, fai vedere bene. Non troppo avanti. Grande. Visto, credo che è graziato pure il quadro. Era quella dell'attività. Avevamo una non consegnata, però... Bello, bello. Il lavoro era fatto bene, era fatto, sembrava. Quella della arena. Grazie mille, io non c'ho niente. Ah, eccomi. No, dicevo grazie mille. È molto bella, sembra un'arancia vera, però... Vabbè. Come... Hai ragione, scusi. C'è un po' di farla cadere. Aspetta, faccio vedere la signora. No! Oddio. Aspetta, la signora... Ecco la casa. Fatta tipo... Grazie, no, perché se inclinavo cadeva. Qui mi sono sceso io. Attenzione che l'ultimo gradino... No, no, ma in salita è più facile. E ora il prossimo anno come fate? E vediamo, io non ci sto al prossimo anno, mi sono stati al prossimo sindaco. Vabbè, a chi? Io ho dato! Ma ora ho capito che questa è la cosa d'oro. Hai capito? Ah, è stato investito tutto nel premio. L'abbiamo badato a chiese. Per Londini nel premio va bene, a te. Mandorato, manca la mela. La banana, che tornerà? Il mandarino. Niente, la patata. Niente. L'affetto, l'affetto. Eh, che ce ne facimmo è l'affetto, sindaco. Tienila tu, poi quando... Lo spicchio. Eh, lo spicchio. Ma questi sono semi di... Cosa? Di milagrano. Di melograno, sì. Di beri. Beri, quelli che... La gente c'è il sonno, è un certo punto. Ok, ci salutiamo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Valerio Lullini. Grazie, Valerio. Grazie mille. A più dell'ordinario. Grazie mille. Guarda, io di solito mi rivolgo da uno che... Comprovo. Sì, sì. Comprovo. Facci sapere. Va bene. Facci sapere. Mi hanno detto, vuoi il microfono così o quello ad archetto? Io ho detto, no, quello così tanto. Mi ero scordato che poi effettivamente il premio... Non possiamo riprendere. No, no, ok. No, no, tranquilla. Ciao, piacere. No, perché magari pensato fosse la sua, l'Arancia. Cioè, era la vincitrice dell'anno scorso. L'anno scorso, no? L'anno scorso vi ha detto? L'anno scorso... Allora, aspetta perché nel museo Maurizio Lastico... Maurizio Lastico. Maurizio Lastico. Maurizio Lastico. Ok, ok, bene. Scusa, un attimo. All'improvviso. Ok, ci salutiamo. Grazie, buonanotte, buon proseguimento. Grazie mille. Ciao, Valerio. Ciao. Ciao, Valerio. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Grazie.